Il simbolismo della corona di spine, nel cuore e sul capo di Cristo. Di Daniele 9. Come già approfondito in altri articoli, Gesù è realmente esistito, ma la sua storia non corrisponde a quella tramandata dalla Chiesa. La storia del Cristo del Cattolicesimo è simbolica, e non a caso, simile a molte altre storie narrate da altrettante correnti spirituali e religiose. Gesù fu un grande mistico e profeta, estremamente carismatico, capace di affascinare le folle, e realmente in grado di fare prodigi. Ma passione e crocifissione sono metafore del cammino che conduce alla realizzazione del Cristo interiore, ovvero della propria anima. Salvare la propria anima, significa riconoscerla, accrescerla, e per mezzo del Cristo solare ricondurla allo spirito del Padre, dal quale nella stragrande maggioranza dei casi risulta separata, a causa dell'interferenza arcontica chiamata ego. L'ego, è in realtà un aggregato di innumerevoli interferenze elettromagnetiche, che giungono dall'esterno, ma corrispondono ed alimentano altrettanti disturbi all'interno dell'essere umano. L'interferenza dell'ego, si concretizza in diffusi e strutturati aggregati psichici, che principalmente, parassitano i due maggiori organi pensanti nel corpo di ogni donna, uomo, e bambino già messo alla prova, e contaminato dalle cose del mondo. Questi due organi, sono chiaramente il cervello, e il cuore. Il cervello, sede del pensiero logico, e il cuore, sede dell'anima. Il cuore-anima, è il centro di ogni sentimento ed emozione, capace di influenzare il nostro comportamento, e interagire con la nostra mente, guidandoci nella giusta direzione. Per questo, la simbologia della corona di spine, nell'iconografia del cuore di Cristo, è stata allargata anche a questo meraviglioso organo. Che non sostiene soltanto la vita spirituale, ma ha un ruolo attivo e determinante anche nella nostra esistenza pratica e terrena. Le corone di spine, che circondano il capo, e il cuore del Cristo, simboleggiano l'interferenza elettromagnetica generata dagli aggregati arcontici. Instillati negli esseri umani dal proprio ambiente scolastico e lavorativo, dalle religioni, e da ogni tipo di istituzione dogmatica, fredda, e gerarchica. Oggi, ai suddetti mezzi di compressione dell'anima, si sono aggiunti la televisione, e la cosiddetta spiritualità New Age, che invece di elevare l'anima, alimenta una più raffinata e nascosta forma di ego. Nei paesi più poveri invece, al posto della televisione, eccetera, a mettere la violenza e il vizio davanti agli occhi dei bambini, ci pensa la strada. Le corone di spine, rappresentano quindi paure, fobie, ossessioni, compulsioni, ansie, rabbie, invidie, preoccupazioni, in larga parte esagerate o totalmente insensate. E poi l'ingordigia, l'accidia, la lussuria, l'abarizia, la superbia, ed altri mille difetti psicologici in cui si traduce la frequenza dell'ego, che l'essere umano contrae, alimenta, e trasmette. Le corone di spine sul capo e nel cuore di Cristo, sono le nevrosi ed i vizi provenienti dal mondo degli arconti, che sovraccaricano la mente logica, e schiacciano il centro dei sentimenti umani, il cuore, allo scopo di suscitare emozioni negative, e l'ostacolare l'evoluzione dell'anima. Il particolare tipo di elettromagnetismo, che io chiamo energia aurea, emesso dalle anime in condizione di separazione dallo spirito, alimenta gli arconti e sostiene le dimensioni di frequenza più bassa. L'interferenza egoica, rappresentata dalle corone di spine sul capo e nel cuore di Cristo, cade unicamente ad opera dello Spirito Santo e del Cristo Solare. Non esistono altri modi per liberarsi dell'ego. Chi si illude di lavorare sul proprio ego in modi diversi, trasforma soltanto un difetto psicologico in un altro, e muore senza avere ucciso l'ego ed elevato l'anima. La coscienza di chi muore senza avere portato a termine il processo di elevazione dell'anima, subisce un reset, e l'anima la reincarnazione in un altro corpo fisico, sempre sotto il gioco degli arconti. Grazie a tutti.